Ma una nuvola rossa avvolge il mondo, è quella di Pecco Bagnaia. Nuvola rossa c'è, è campione del mondo con la Ducati, è campione del mondo con la Ducati. È un onore, è un privilegio e sono molto contento. Alla fine vivo qua da ormai dieci anni, ritengo che questa sia la mia casa quando torno da ogni Gran Premio e si sta bene. Francesco Pecco Bagnaia è cittadino benemerito di Pesaro. Il comune ha conferito il riconoscimento altre volte campione del mondo di motociclismo fra Moto2 e MotoGP da dieci anni adottato da Pesaro così come dalla vicina Tavuglia. Folla e applausi nell'intervista che Mauro Sanchini ha realizzato sul palco dell'Auditorium Scavolini a nemmeno 24 ore dall'inaugurazione del nuovo impianto polifunzionale della città. Una città che cambia come cambiato Bagnaia dal suo arrivo un decennio fa. Eh dieci anni e tre titoli, alla fine sono cresciuto dieci anni in un ragazzino fa tanta differenza e ho avuto la fortuna di avere persone attorno che mi hanno aiutato a crescere nel modo giusto. Accompagnato dalla fidanzata Domizia e da tanti amici compreso un altro campione come Marco Bezzecchi Bagnaia ha toccato tanti argomenti compreso l'essere partecipe dell'orgoglio di Pesaro capitale della cultura. Bellissimo, sono contento, vuol dire che quest'estate o comunque quest'anno ci saranno molti turisti in più ed è benvenga, sono contento. Comunque Pesaro si sta da paura quindi è bello. Ed ora ci si tuffa in un moto mondiale 2024 con un titolo da difendere. Siamo pronti, siamo pronti per cominciare, i test sono andati bene quindi non vedo l'ora. Soddisfatto il sindaco Matteo Ricci che propose la cittadinanza onoraria un anno e mezzo orsono. Volevamo dare la cittadinanza onoraria ma poi verità è più pesarese di noi ormai, risiede a Pesaro da tanti anni, ha dimostrato anche stasera con l'intervista l'amore, il gambe che ha con la città, con tanti amici, con la palestra che frequenta, con la VR46. Quindi insomma siamo molto contenti perché è davvero un grande campione, un grande campione in pista e anche una bellissima persona e l'abbiamo visto, un ragazzo davvero in gamba. Siamo molto contenti che viva qua, che si sposi qua e quindi come ho detto nel saluto da oggi nuvola rossa sarà un po' nuvola bianco-rossa con i colori della città e quindi rappresenterà non solo l'Italia ma anche la città di Pesaro in tutto il mondo.